I nostri ricordi sono come i sogni. Col tempo possono offuscarsi, rendersi confusi, poco chiari, sfocati, e diventerebbe quasi impossibile raccontarli. E allora potrai fotografarli, congelando il tuo ricordo in quell'istante irripetibile. Fantastico. Ma quando col tempo osserverai quella foto, ricorderai quell'istante come la tua mente vorrebbe ricordarla, e non forse come è venuto realmente. Un video invece, un video ti mostrerà ciò che in realtà è stato, rivivendo il tuo ricordo come se fosse un film. Il tuo film. Il tuo film. Il tuo film. Vi saluto.